Non vediamo l'ora di iniziare tutti, c'è dell'entusiasmo, c'è il volo di far bene e vediamo di riuscirci. Senti c'è un mix tra esperienza, giovani, quello che voleva Larry Brown, che volevano Paolo e Stefano, come hanno detto anche prima il presidente, poi ci sei tu a farla a chioccio. Ma è una squadra intrigante, è una squadra che ha potenzialità, che è una squadra che se trova l'amalgama e la quadratura del cerchio giusto può divertirsi e far divertire. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza come è risaputo con i giovani e vediamo. Devenite, stateci vicino, proveremo a farvi divertire in tutti i modi, proveremo a regalare qualche soddisfazione e riempirlo secondo me crea un'atmosfera speciale. Ciao ASTV, un saluto speciale, buon campionato a tutti.